Ciao a tutti da Cristi Attigenza, il salutatore del blog, direttamente da Piazza Venezia, Giorgio Ceccarelli, il presidente dei papà. Giorgio Ceccarelli vi dice a tutti che la festa del papà va festeggiata in questo modo, amate i vostri figli e nessuno deve impedire il loro amore. E ricordiamo, papà e mamma sono sempre uguali, non hanno priorità e ognuno deve fare il suo ruolo fatto nei modi più idonei. Salutiamo a tutti gli amici di YouTube, MySpace, Facebook, Twitter, anni 70-80, grupponi, raccomanditi del Vivi Novo. Non potevo ricordarmelo in memoria, agli amici tutti che salutò. E ovviamente a tutti gli amici di Aeroz e papà. E tutti i maratoneti. E a tutti i maratoneti e facciamo gli auguri per la festa del papà. Auguri papà a tutti i papà del mondo. Ciao a Crista DJ e Giorgio Ceccarelli. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.